Teonilde Nasce e si sviluppa a Lumezzane, utilizzando nel migliore dei modi le sinergie che il territorio offre, come tecnologie di produzione, materie prime e risorse umane. Nasce e si sviluppo e la crescita costante negli anni hanno permesso all'azienda, nonostante e grazie alle piccole dimensioni, di inserirsi in un mercato mondiale sempre più esigente e selettivo. Teonilde La produzione Teonilde si concentra soprattutto nella realizzazione, anche su disegno, di calotte e componenti vari in ottone, avvalendosi, per questo, di macchinari ad alta produttività e precisione, quali presse Atebor, transfer a controllo numerico, torni mono e plurimandrino a controllo numerico. I clienti produttori ai quali Teonilde si rivolge operano in molteplici settori. Alcuni di questi sono rubinetteria, valvolame, lessibili, raccorderia per idrosanitaria, riscaldamento, condizionamento e refrigerazione, rubinetteria e raccorderia per gas. La potenzialità di produzione di Teonilde rende comunque possibile la fornitura di articoli ai più svariati campi di applicazione. Grazie a tutti. 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 L'obiettivo primario è acquisire nuove quote di mercato attraverso l'ottimizzazione dei processi produttivi, in modo da garantire nel tempo un rapporto qualità-prezzo ideale.